senza direzioni ho lasciato che il segno corresse libero di aggiungere accumulare figure tutto guidato dal particolare stato d'animo dei giorni in cui maggiormente sembravano solo esserci notizie contrastanti e spesso depistanti l'impressione quella di una umanità imprigionata in labirinti un sosseguirsi di punti di vista diversi che agitano e smarriscono grazie